Voi sapete che io cerco sempre delle ragioni legate ai numeri che esistono tra un evento e l'altro. Io ora ignoro in questo momento che relazione ci sia, ma ho stranutito, oggi piove qui a Saronno. Che relazione esiste, ripeto, tra quel fatto accaduto 97 anni or sono e quello che accadrà tra due anni circa? Io credo che esistano delle relazioni. Innanzitutto credo che in quella data lì del 1917,10,10,13 scusatemi, ci sia già un segno nel valore numerico della data che lascia immaginare quello come un giorno particolarmente significativo sotto il profilo dei numeri. Ma ritengo anche che se ci sia un qualcosa di legato al sistema generale che va in crisi, come io credo il 26 di luglio del 2016, tutto questo deve risultare anche attraverso i numeri. Dunque facciamo i calcoli e vediamo. Io ve lo affermo già in partenza, i calcoli ancora non li ho fatti. Essi consisteranno in primo luogo nel potenziale di quella data lì. Poi nel numero dei giorni che intercorrono tra quella data lì, del miracolo del sole visto discendere, e quello che io ritengo corrisponda a questo sole contenuto come un contenuto di verità in un personaggio che muore e ascende in cielo alla fine della vita del personaggio. Per fare il calcolo bisogna riferirsi al momento in cui abbiamo il valore 1 che è dato dall'indice 44. Ora 44 per 44 fa 1936 come anno. Ecco tutto va riferito al 1936 nel potenziale. quindi partendo dal 1917 mese 10 giorno 13 elevato a 0,5 ossia nella sua radice quadrata abbiamo 43 e quel numero lì che messo in detrazione a 44 rivela il quantitativo esatto che manca in questo conto alla rovescia rispetto alle unità e vediamo che siamo di fronte proprio a un conto alla rovescia che è unitario perché il 21 pone tutte le dimensioni in avanzamento che esistono su ciascuna linea praticamente è l'opera divina 7 espressa nelle tre dimensioni di padre figlio e spirito santo o se volete dell'asse x l'asse y e l'asse z il 52 che vedete è la somma di 26 più 26 laddove 26 uguale dio uguale anna nel mio caso ecco corrisponde a un duplice valore relativo a anna o se volete a dio ed è praticamente una anna che avanza interamente per tutta la sua quantità del suo essere anna o se volete un dio che avanza in quanto dio e questo nel 52 84 rivela di essere questo 21 che indica tutto l'avanzamento 1 e trino perché è 21 più quel 63 che è dato da 21 più 21 più 21 e quindi è 84 tutto l'avanzamento 1 e trino e 63 l'ultimo valore lo quantifica nel suo spazio per cui nel giorno in cui si era al miracolo del sole che scende a cova di iria siamo in un valore talmente intero a individuare la distanza rispetto a quel 1936 come anno che corrisponde esattamente a 44 per 44 che manca al valore 1 dato da 44 proprio tutto lo spostamento intero dimensionato dal 21 21 sono anche tutte le lettere dell'alfabeto perché tutto lo spostamento quando si esprime attraverso il sistema alfabetico occupa 21 lettere alfabetiche e acquistano il significato alfanumerico che consente alla ragione umana mentre fa pensieri poggiati su concetti che considerano il valore alfabetico mette in condizione questo valore alfabetico per quanto esso rappresenta in valore numerico il cervello in condizione di fare esattamente dei calcoli perché sono riferita delle quantità proprio intere matematiche e 21 52 84 63 vedete è costruito tutto quanto sulla trinità dell'opera intera 7 e sul dualismo di dio e sull'opera che avanza in modo uno e trino nel suo definirsi trino quindi quello che avevo supposto io che l'anno 1917 il 10 13 fosse un anno particolarmente significativo in relazione al suo potenziale numerico è perfettamente confermato dai calcoli anno 2016 meno l'anno 1917 sono 99 anni fino all'ottobre 13 di cui 24 75 sono anni bisestili quindi ci saranno da aggiungere 24,75 giorni meno dunque i giorni che vanno dal giorno numero 207 che è il giorno che indica il 26 di luglio rispetto al giorno numero 286 che è quello legato al 13 ottobre quindi facendo 99 volte per 365 giorni aggiungendogli 24,75 giorni meno i bisestili meno i 79 che ci vanno da 286 al 207 sono 36.135 meno 54,25 uguali 360.080,75 ora questo virgola 75 sono esistenti in tutto lo spazio perché lo spazio è dato da tre anni su quattro e qui proprio quello che è presente sono presenti tre quarti di un giorno quindi tutta la parte legata allo spazio di conseguenza i 360.080 più 0,75 sono la quantità intera dello spazio e quindi si aggiunge un giorno intero in più sono 36.081 o se volete è l'ottantunesimo questo numero è dato da sei per sei che indica proprio la totalità di tutti i sei versi verso il centro e verso l'esterno si moltiplica per tutta quanta la realtà che si poggia su dieci ed è una etrina e vi si aggiunge tutta la trinità in potenza una etrina quindi come vedete sono tutto lo spazio sia nella composizione tra tutti i versi sia nella loro quantità totale sommati proprio al valore 81 che indica proprio la quantità della trinità unitaria quando è in potenza 1,4 quindi avete avuto una riprova di quello che io avevo sostenuto che tra l'evento di cova di iria avvenuto nella discesa del sole nel miracolo lì della madonna di fatima fino a quella che sarà come io credo la risalita in cielo di un ra che è l'emblema del dio del sole c'è proprio tutto lo spazio se considerate che sei per sei è quello che è contenuto nel 66 di romano e nel 3 elevato 4 proprio quello 81 che si aggiunge a 300 ossia tutto lo spazio in linea quando è assoluto 100 più 100 più 100 a determinare il valore cabalistico 381 di tutto l'insieme dei senomi quindi avete una precisa conferma di tutto quello che avevo supposto e che ho voluto verificare assieme a voi grazie a tutti